Ciao ragazzi, un crimine al giorno, lunedì 25 marzo, oggi parliamo di quelli che io ho nominato i treni di Stalin e precisamente l'operazione Priboi, un'operazione terribile che venne operata dall'Unione Sovietica nei confronti degli stati baltici sotto il suo controllo nel 1949, è un caso un po' più particolare rispetto al solito, ma che va assolutamente citato nel quadro di quello che è stato il contorno del conflitto della Seconda Guerra Mondiale, che non ha avuto delle azioni terribili semplicemente durante il suo svolgersi, ma anche largamente dopo e sicuramente anche a carico di una superpotenza come altre, gli Stati Uniti hanno avuto la loro Hiroshima e Nagasaki e non solo, la Russia ovviamente, tanto per citare le potenze che sono presenti come accusatrici al processo di Nuremberg, hanno avuto le loro eccellenze, una di queste eccellenze sono quello che io ho chiamato i treni di Stalin, l'operazione Priboi, iniziata questo giorno, il 25 marzo del 1949, dalle prime ore del mattino. 90 mila persone che andavano dai 16 anni ai 45 anni circa, principalmente uomini, ma non soltanto, 90 mila estoni, lettoni e lituani vennero deportati con la forza in un'operazione di smembramento della forza lavoro agricola, insomma dei paesi baltici e deportati in campi di lavoro, come nemici del popolo russo, verso le zone più isolate e terribili della Siberia e dell'Unione Sovietica in generale, in campi di lavoro, in campi di concentramento vere e proprie, si stima purtroppo la morte nell'arco di meno di 7 anni, del 32% di questi deportati ovviamente costretti ai lavori forzati, costretti a un ambiente di lavoro terribile, ma nutrizione e anche esecuzioni sommarie nel momento in cui alcuni di questi deportati venivano riconosciuti come legati a degli ambienti sovversivi, ecco, dei paesi baltici sotto controllo dell'Unione Sovietica. I testimoni oculari sono abbondantissimi in questo caso, come in tutti questi casi storici, sono ufficiali, regolari dell'esercito russo, il resto del popolo baltico, dei popoli baltici ovviamente, gli operatori delle deportazioni, così come il popolo russo che è stato testimone delle decine di treni che hanno portato queste persone in giro nei campi di lavoro della Russia. Ovviamente i sospetti sono più che sospetti, si tratta del capo in testa Stalin e di tutti i responsabili dell'MGB, ovvero il Ministero della Sicurezza dello Stato, così come i vertici dell'esercito e tutti i collaborazionisti nella zona dei paesi baltici. Il movente è teoricamente odiopolitico, razziale, identitario, ma io direi che il movente principale è schiavismo nei confronti di forza lavoro che poteva essere utilizzata in maniera forzata e assolutamente gratuita. Viene dichiarato finalmente come crimine contro l'umanità nel 1993, ma ovviamente, come spesso accade nei confronti di queste superpotenze che vincono le guerre, non è stato riconosciuto nessuna condanna nei confronti della maggior parte delle persone che c'erano allora e che non ci sono più, ma neanche quelle poche che erano ancora sopravvissute alla collaborazione di questo crimine. I treni di Stalin, operazione Free Boy, la distruzione di popolo baltico, 90 mila persone deportate per fare gli schiavi in terra russa. Era un crimine che non potevo non citare, anche se un po' differente rispetto ai normali crimini al giorno. Ci vediamo domani con un'altra pillola di crimine, con il Teo Crack Apart, mi raccomando, e anche in settimana con le nuove live della botteguccia dei sigilli e un sacco di novità e collaborazioni esterne. Grazie mille.